Siamo qui oggi perché stiamo facendo una challenge In cui per 24 ore non dobbiamo stare assolutamente a contatto con oggetti tecnologici A parte quello con cui ci riprendiamo Buonanotte Mi sono appena alzata, lo spettatore principale in camera mia è il mio libro di matematica E credo che sarà quello per tutto il resto della giornata Poveri studenti La mattina è iniziata bene, è venuta mia madre a svegliarmi perché non potevo mettere la sveglia al cellulare Mi sono sveglata tranquilla, non ho avuto l'impulso di vedere Facebook o gli altri social Sono 10 ore che ho il cellulare in modalità aereo Stamattina è stato strano doversi svegliare, non accendere Whatsapp, non vedere i messaggi Non scorrere la bacchica di Facebook, insomma Però resistiamo ancora per ora Sono le 2.10 e stiamo apparecchiando la tavola Per ora stanno più o meno bene Sono 13 ore che non utilizzo il telefono Sono le 12, dovevo vedermi con dei miei amici per un caffè Non sapevo come contattarli Quindi alle 12 e mezza ho fatto mandare un messaggio a mia sorella Sono oramai a 14 ore che ho messo il cellulare in modalità aereo Stamattina non mi è pesato perché dovevo studiare Però ora avrà anche implicazioni appunto sulla vita dei miei familiari E per oggi mi uccideranno Appunto, niente tecnologia, parliamo a pranzo Salutate Sicuramente la sfida più difficile sarà quella post-pranzo In cui di solito sono maggiormente tentata nell'utilizzare Facebook o Instagram Non posso vedere le mie serie tv preferite E questa cosa mi fa un po' innervosi Adesso reggo Sono circa le 17.30 Forse un po' di più E cosa ho fatto in questa giornata? A parte finire i compiti di matematica, tutti Ho fatto un po' di ristrutturazioni in camera mia Ho letto anche un po' un libro e ora sono in piacento di andare in palestra Non ho ascoltato nemmeno una canzone Manca uno schifo di canzone Mai più Mai più Ma che devo fare? Mi mancano i miei amici che non sento da troppo tempo Mi sento completamente tagliata fuori dal mondo Tagliata fuori dal mondo Ce la faccio! È una cosa fattibile Con gli amici Con gli amici Mia madre invece è contentissima Questa giornata che sta trascorrendo così con me Che non ho il telefono fra le mani E sicuramente lo saranno anche i miei amici Però sto tenendo duro Abbiamo appena finito la partita Possiamo dirlo È molto meglio una partita sull'erba vera Che una partita alla Playstation Senza dubbi Ci si diverte di più Siamo qui perché non sapevo che cosa assolutamente fare Quindi dobbiamo ricrearci in qualche modo Abbiamo fatto tutti i giochi da tavolo existenti In questa giornata È un po' strano non guardare il cellulare Perché di solito continuamente via Sono appena arrivata a casa e ho perso 12 o'clock midnight Finalmente possiamo usare i cellulari Non pensavo di poter resistere così tanto tempo Mi aspettavo che sarebbe stato insomma più difficile per me Ho mostrato anche il fatto che Forse a volte riteniamo Cellulare lo smartphone Un qualcosa di troppo essenziale Rispetto a quanto effettivamente insomma lo sia Ci ho aperto la mente Ho deciso di impegnarmi a far sì che questa non sia l'esperienza di un solo giorno Ma effettivamente di ridurre l'utilizzo del telefono Anche perché sono state effettivamente bene È stato positivo passare questa giornata senza tecnologia Perché mi sono sentita un po' più rilassata Perché alle volte ricevere tante notifiche insieme Magari con la suoneria alta È piuttosto sdermalte Soprattutto quando magari è altro da fare Che non vuoi sentire proprio nessuno Devo dire che mi è piaciuto Ho anche studiato con più impegno rispetto al solito Con la dimostrazione che il cellulare distrae Ci ho aperto la mente Forse non ho imparato niente Ma mi sono reso conto di quanto tempo perdiamo con il cellulare Le tecnologie di social in generale Dimenticandoci di vivere A volte dobbiamo solamente staccare La sfida è finita Fatela, partecipate E siete folli